Allora ciao ragazzi benvenuti nel mio nuovo video e consiste di mettere un uovo in testa per correre un percorso al slalom e buttare l'uovo nel contenitore e fare con questo come macco Bajam Come a bokeh in colabello Ragazzi ora vi farò vedere cosa è successo che... Dio dietro le quinte guardate un po' cazzo Qualcun cane bastardo nel mio... . . . . . . . Sì, non lo so, non lo so. no no nessuno nessuno ma 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 ma